X-Factor 2011 su Sky con Morgan È ormai ufficiale. X-Factor, il talent show condotto da Francesco Facchinetti e trasmesso da Rai 2, sbarca su Sky. Oltre al primo e per molti drastico cambiamento, vi è un'altra novità che riguarda il cast. Sembra che stia prendendo forma la possibilità di rivedere Morgan di nuovo tra i giudici di X-Factor. Tutti gli affezionati del talent ricorderanno che la prima ad abbandonare la trasmissione è stata Simona Ventura. Seguita da Morgan, Claudia Mori e infine dalla veterana Mara Maionchi, che dopo aver concluso l'ultima edizione di X-Factor, si è subito trasferita al talent Mediaset Amici di Maria Di Filippi. Anche Anna Tatangelo, poco dopo la fine dell'ultima edizione di X-Factor, trasmessa da Rai 2, ha reso noto di non avere alcuna intenzione di riprendere l'esperienza del talent. Tanti cambiamenti in programma. Tra le novità della prossima edizione della trasmissione, che dovrebbe essere prodotta da Fremento al Media Italia realizzata con Magnolia, vi è una molto più importante, che riguarda l'extra-factor. Sky, infatti, sembra avere tutte le intenzioni di proporre un dopo-show in diretta, offrendo commenti a caldo e retroscena sugli artisti che si sono esibiti poco prima. Da giugno dovrebbero già partire i casting che si terranno nelle varie città. È proprio il caso di dirlo. X-Factor sta tornando.